E niente, ho fatto casino. Ieri sono riuscito a far casino, ho stato attivato come reperibile e non ho ripreso. Quindi bentornati su Crusader Kings 2, bentornati alla nostra partita con Stannis Baratheon, nello Stannis Baratheon Challenge di questa caldissima estate in cui prendo mazzate da chiunque a questo gioco. Sembra veramente un incapace a questo gioco, ma io non so, ma voi riuscite a ottenere qualcosa da questa situazione terribile. Dicevo, ieri purtroppo sono stato attivato come reperibile e quindi mi sono trovato a non riuscire a fare il secondo tentativo, ma direi che lo facciamo oggi, tanto in questi giorni i video ammetto essere purtroppo abbastanza saltuari. Allora, innanzitutto cerchiamo di dare il più possibile. Speriamo che quello stronzo di John si decida a unirsi a noi, perché se non si unisce a noi tutto questo diventerà molto difficile. Potrebbe cercare di fare figli, ottenere un grande trono, vincere una guerra. Vabbè, proviamo a dire di vincere una guerra, che è già un buon obiettivo. Chiamiamo Crown Focus, non che questo cambi molto. Un membro del concilio li abbiamo tutti. Ma io non posso cambiare la religione, così mi evito tutti gli eventi negativi? Ovviamente no, sarebbe abbastanza assurdo. Far cambiare la religione a lui. Va bene, io adesso ho 6200. Stiamo già perdendo le prime fortezze, questo va tutto bene. Se io usassi le navi, sto giro per andare verso sud, intanto insomma di navi dovrei averne abbastanza, no? Troppe in più. Ok, ci sono anche quelle 6, ma per ora le lascio qui. Porto le mie navi tutte qua davanti. E te ti porto a mano fino a l'iva. Mi sto per toglierti da questa situazione. Oh, ma che palle, ma i chiaccetti. Accettate la nostra prima partita, non ho mai più accettato. Potete stare dove siete. Non rompete le palle. Vanno aumentando le nostre truppe, anche tu puoi stare dove sei. Le nostre navi stanno arrivando. Massimo andiamo anche queste 6, va. Meglio di niente. Se tutto va bene. dovremmo riuscire a ottenere qualcosina. Qualche piccolo aiuto. Va bene. Quindi Rick, Ricard dovrebbe essere il nostro uomo. Il nostro uomo. Va bene, unisciti pure. Sono ben felice se ti unisci. Tutte queste truppe che si uniscono, in realtà, non sono truppe, ma pazienza. Noi accettiamo tutto. Accettiamo tutto. Innanzitutto accetterei che arrivasse la mia flotta, in modo da poter imbarcare almeno un po' di truppe. Ah, sposa pure chi ti pare. Allora. No, non mi interessa. Assolutamente niente. Fate che cazzo volete. Mi interesserebbe che ti splittassi. Questa flotta si unisce. E i primi 4.000 uomini andassero sulla flotta. Perfetto. Quindi tu, appena avrai imbarcato gli ultimi uomini, si spera che tu me li venga a sbarcare qua. Che non è proprio il massimo, insomma, meglio di niente. Dovrò cercare di agire in maniera completamente diversa come ho fatto fino adesso. Però, insomma, si potrebbe anche provare a fare. Va bene, uniamoci a lui nella sua guerra difensiva. Va bene, tanto lo perderemo di sicuro. Questa volta sarà hope. Va bene. Ce l'abbiamo fatta. Decapitiamola. Benissimo, non contento di aver ottenuto qualcosa. Scarichiamo queste truppe. Scarichiamole qui. Meglio di niente, insomma. Perfetto. Le prime truppe sono arrivate. Ora, rimandiamo la mia flotta Nord e rimandiamola a prenderne altre. Non ce ne sono altre. Ma tra un po' altre arriveranno. Sento che tra poco altre arriveranno, se tutto va bene. Intanto cerchiamo di usare queste in maniera decente. Non sarà facilissimo, ma ci proviamo. Sposa pure, chi ti pare. Uh, benissimo. Accetto, come al solito, il loro denaro. E con quello cerco di crearmi dei mercenari. Benissimo. Che sono comparsi dove esattamente? Nel nulla cosmico. Fantastico! Benissimo. Veramente alla grande è andata. D'altro stanno arrivando le truppe da Nord e quindi è meglio se mi sgancio. Anche tu. Vieni pure qui. Va bene. Devo cercare di trasportarle tutte verso Sud. Vendiamole pure. Solo che qua... Duskendale vogliono andare. Che temo dove sono io, vero? No, però è vicino. Oddio. Mi faranno un culo a capocchia. Sono andato a cacciarmi in un brutto guaio, secondo me. Dovrei lasciare che queste truppe combattano contro queste truppe. Ma non lo vogliono fare, questi maledetti. E quindi, non volendolo fare... ...la situazione si complica. E non di poco. Andiamo un poco. Voi intanto siete quasi arrivati. L'ultimo focolare. Nuove truppe. Io ripeto che non ci sputo sopra nuove truppe. Bene, voi unitevi e poi splittatevi. Allora, vorrei che tu... 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 No... Sì... Tu imbarcati... Cazzo! Stiamo combattendo. Attacchiamo con velocità. Qua a sud e contro chi stiamo combattendo esattamente? Un'armata che ci spazzerà via. Fantastico. Attacchiamo con velocità. Colpisci. E l'abbiamo ucciso. Il fatto che noi l'abbiamo ucciso... Non migliorerà la nostra situazione. Perché credo che moriremo, insomma. Fantastico. Le nostre truppe stanno scappando. Bene, molto bene. C'è molto bene una sega, ma pazienza. Il problema era che... Vieni qua. Vieni qua a scaricare le truppe insieme, va? Almeno si uniranno. E il problema di mandarle separate è solo quello. Sarei quasi più contento di vincere... Contro qualcun altro. Le nostre truppe stanno marciando verso nord. Dove probabilmente verranno comunque annientate. No, sono riusciti a vincere qualcosina. Direi che è meglio se da qua scappiamo, eh. Possibilmente a tutta velocità, ma mi sa che verremo intercettati e uccisi. Mi sa che verremo intercettati e uccisi. E anche malamente. Vero? Oh, Dio. Potresti scendere a dare una mano, ma mi sa che servirà molto poco. No, 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 no. Spostati qua, va. Siamo morti. Siamo morti. No, siamo ancora vivi. Incredibile. Queste truppe stanno marciando, non si sa verso dove. Verso là. Allora tu, queste qua, scappiamo e veniamo qui. No, no, no. Vieni qui. Che due palle. Fai questo giro e vieni lì. Tutto la mia idea di trasportare le truppe verso sud e si è scontrato con una flotta assolutamente non in grado di fare quello che chiedevo di fare. Che disastro, che disastro che sono stato a sto giro. Avrei dovuto smollarle in una posizione migliore, c'è poco da fare. Andiamo agli alle concessioni sulle tasse. Sposa pure chi ti pare. Quello che non capisco è perché sti maledetti non si possano riunire. Le nostre armate stanno aumentando? No, stanno aumentando un cazzo, stanno aumentando. Venite a riunire qua, va. Tu che sei tornato a nord, raccogli le ultime armate e poi me le unisco. Che dovrebbero rimanermi un 12.000 uomini, poco meno. L'ultima battaglia è stata veramente brutta. Io spero solo che questo voglia dire che si impegneranno a scontrarsi fra di loro. Questi non so dove stiano andando, sono tornati a difendere la loro casa. Perfetto, noi abbiamo perso una guerra, ma non importa. Io sarei ben contento se voi due vi scontraste. Cioè le truppe dei Targary e delle truppe dei Lannister si scondassero. Ma non lo faranno. Vedi che stanno andando verso nord per fare il culanoi di nuovo. Oddio, no, scendi qua, va. A meno ci uniamo. Almeno ci uniamo. Benissimo. Quindi voi... No. Tornate a casa, va. Vi disbando a casa. Tanti inutili a tenere la flotta richiamata. Non ci sono altre truppe sbucate, direi di no. Perfetto. Rimaniamo come eravamo. Andiamo la brava nell'intrigo, direi che è la cosa migliore. Perfetto. 27 giugno. Oh. Vabbè. Buona fortuna, mi spiace. Ignorato le nostre relazioni con uno. Ah, abbiamo perso anche Rainwood. Quando le nostre armate si riusciranno a riunire, quando smetteremo di arrivare a delle sconfitte. Perché il problema nostro è che qua, se non si scontrano fra queste armate e quelle qua, noi siamo il vaso di coccio tra i vasi di ferro. Non possiamo fare niente qua. Facciamo una cosa, mandiamo la flotta qui a spiare, va. Sperando che veda qualcosa, non vede niente. Oh, Dio. Non mi dispiacerebbe. Harvest Hall. Sala del raccolto. Abbiamo perso sala del raccolto in italiano. Alcune faccio fatica a tradurre, alcune sono decisamente più traducibili. Vinciamo un altro scontro, ma niente di... che abbia un minima valenza. Riprendiamo a marciare verso sud. Vincia porca puttana, col cazzo che marciamo verso sud. Scappa, scappa. Scappa veloce. Oh. Ma l'è veloce veloce, proprio. Caputana. Continua a scappare. Pensate, se dobbiamo scappare così. Vabbè, è una donna d'onore. Sono contento per lei. Sì, ma non venite verso nord, maledetti. Non inseguitemi. Non inseguitemi, per favore. Perché mi inseguite? Volete uccidermi? Perché non andate a uccidere quelli a sud, cacchio? Che adesso vi verranno a conquistare anche a voi. Oddio. Continuiamo a perdere. Proviamo ad andare agli incontro, sperando che non mi abbiano seguito. Potremmo andare alla flotta a spiare. Non che finora abbia visto molto, ma dovrebbe teoricamente farmi vedere quelle province, no? La vedo veramente grigia. Non so come... Verrà ricordato dovessimo vincere come il periodo in cui siamo scappati. Io finalmente vedo dove sono andate le truppe nemiche. Sono scappate giustamente lontano da me. Siete scappati, vero? Dal grande Stannis. E che cazzo? Hanno annesso anche quello. Vabbè, almeno al nord stiamo vincendo. Potrei andare a dare una mano, ma temo di far più danno che altro. Vabbè, stanno già vincendo alla grande da soli. Beh, il nord vince. No, sicuramente non voglio fidanzarmi con il nulla. Vediamo se loro cambiano direzione o continuano a marciare verso sud. Uh, uh, ma qua ce n'è un'altra che è sempre più grossa di me. Ma perché avete tutte queste armate? Le cazzo le avete tirate fuori? Oddio. Qua continuano a conquistarmi tutto, ma si spera che tra poco viaggino verso nord. E che si massacrino a vicenda. Cioè, io lo spero, esser sincero, ma non ne sono così convinto. Vediamo di conquistare qualcosa. Oddio. Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo? Vabbè, loro vanno verso sud. Le mandiamo la nostra flotta a scoprire cosa succede qui intorno. E muoviamo le nostre armate anche noi verso sud. Noi li inseguiamo. Faremo gli inseguitori. Stiamo combattendo nella maniera più vergognosa e esistente al mondo. Ma non ho alternative in questo momento. Vabbè. Prosperità di territori che ormai non controllo quasi più. Quindi non è un grosso problema. Però benissimo che loro marciano verso sud, difendono la capitale. E si spera che tra un po' inizieranno a scontrarsi con le truppe più a sud. Continuate a marciare verso sud. Qua ce ne sono 16.000 in arrivo. No. Non ce ne sono più 16.000 in arrivo. Oddio. La vedo veramente tanto, 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 tanto grigia. Rimaniamo qua un attimo. Vediamo cosa succede. Se quelli lì si sganciano, se ne vanno, io li seguo, non li seguo. Chissà. Veniamo anche noi verso sud. Un passettino alla volta. Intanto mi sembra che qua andiamo alla grande. I Bolton lassù stanno venendo sconfitti e questa è una cosa buona. Noi facciamo un passettino in senso di conquista. Io spero solo che non arrivi nessuno da sud. Eccoli lì che stanno arrivando. Vogliono andare a Stokwout. Cioè vogliono andare qua. E quindi inseguire me. E io allora scappo. Cazzo qua mi stanno anche conquistando. No, ma non è possibile. Ragazzi, seriamente, non è possibile questa cosa. Non è fattibile. Cioè non puoi insieme a avere un quarto delle loro armate e sperare di vincere. Non è fattibile. Più che altro perché loro se la prendono solo con noi. Non si battono neanche mezza volta contro i nostri avversari. Che sono anche i loro avversari, peraltro. Posso continuare a massacrare truppe nemiche, ma non serve a niente. Eh, io continuo a vincere battaglie, ma che cazzo sarei vincere queste battaglie? Rimuovermi verso sud, per sperare di attirarli contro gli altri. Quello che non capisco, ma credo siano tutti in guerra anche fra di loro. Ah, qui ho 2400 uomini sbucati dal nulla. L'armata di Sir Roland. Prova a venire a King's Landing, vediamo un po' cosa si riesce a fare. Cazzo, siamo inseguiti come dei pazzi. Eccellente. Proviamo il colpo gobbo. Non ce la faremo mai, eh. Perché sono troppe poche truppe. Credo che stiano arrivando truppe nemiche a massacrarci. Ma noi ci proviamo, moriremo con o no. Oddio mio, stanno arrivando una marea. 28000. Andiamo verso sud. Così magari si scontrano fra di loro. Che è un po' la mia speranza. Vabbè, mi ho massacrato un po' di eserciti nemici. E che ci darà un po' di punteggio. E male non fa. Oh, i primi scontri tra di loro. Che non vedevo l'ora. Oh, benissimo, benissimo. Vinciamo qualche battaglia. Anche i nostri alleati vincono qualche battaglia. Dai che ce la possiamo fare, ragazzi. Dai che ce la possiamo fare. Così si fa. Massacriamoli. Oh, finalmente qualcosa di buono. Possiamo sbarcare qua? No, ovviamente no. Ci mancano le navi. Arriviamo in punta. Ah, però stanno vincendo i nostri alleati. Molto bene. Molto bene. Ci stiamo rifacendo un po' un nome. Oh, qui. No. Sono truppe nostre alleate? Come va invece la situazione qua a nord? Beh, direi che hanno ampiamente vinto. Insomma, non dovrebbero avere più grosse truppe. Perché queste truppe sono qui? Ah, perché sono di White Harbor. Perfetto. Va bene. Voi assediate e conquistate qualcosa. Giusto per tenere un piccolo pezzettino. Sperando che non arrivi il grosso delle truppe. Potrei riprovare a rimarciare verso di là. Vedere cosa arriva nel mentre. Delle concessioni per le tasse. Va bene così. Noi puntiamo sul non perdere truppe adesso. Non perdere soldi adesso. Perderli piuttosto dopo. Oh, dio. 2498. Non sono tantissimi. Credo che stiano andando verso... Eh, quanto tanto mi stanno conquistando un altro territorio. Il che è un problema. Vedere se riusciamo a difendere. Vediamo quante truppe arriveranno. Allora, in questo momento ci siamo solamente noi. Solamente noi. 5000, son 6000, son poche. Io devo tenere un occhio attentissimo che non arrivi il grosso dell'armata. Perché se arriva il grosso dell'armata... Però la vedo abbastanza sparsa verso nord. 5985. Io spero solo che... Tommen sia lì. Perché se Tommen è lì, ragazzi, facciamo il colpaccio. Intanto la sua nord. Stanno vincendo. Se Tommen è lì, facciamo il colpaccio. E la chiudiamo. Proviamoci. Un sogno. Stiamo vivendo un sogno. Che punto stiamo? Mica, quanto ci stiamo mettendo, ragazzi. Quanto ci stiamo mettendo. 5000 sono qua in giro che girano. Ci sono truppe che stanno arrivando dalle nostre alleati. Che si uniscono a noi. È un momento importante. È un momento storico. Tanto qua su a nord direi che più o meno è finita la guerra. Non so cos'altro aspetti. Non predichi... Uh! Ecco dove è il loro esercito. Sono andati verso nord. Mio Dio, sono andati verso nord. Stiamo vivendo un sogno. 4600 uomini. Perché aumentano? Dovrebbero diminuire. Dai, dai. Il morale dei difensori cala. No, no, no. Non tentiamo un assalto per ora. Per ora andiamo bene. Dovessero arrivare altre armate. Tenteremo un assalto. Perso Weeping Town. Non è un problema. Vabbè, Dio, non è un problema. Stiamo per perderla sotto. Dai. Chiudiamo questa. Chiudiamo questa. Eccellente. Cazzo però. Mi sa che l'ultimo... Se conquistano questo, abbiamo più o meno perso. Facciamo un assalto. Proviamo un assalto. Cazzo. Oh! No! Siamo solo passati in vantaggio. Libera tutti i prigionieri. Perfetto. Uh! In prisione l'intera famiglia. Pausa. 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 Abbiamo fatto quello che dobbiamo fare. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Non ci credo. Non ci credo. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Cosa diavolo è sta roba? Chi se ne frega? Oh Dio. Lord Tom and Waters. L'abbiamo anche privato del nome. Restituiamo gli soldi. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Restannis del trono di spade. Restannis del trono di spade. Dio mio. Dio mio. Siamo campioni del mondo finalmente. Non ne potevo più. No. Non posso invandare le mie domande. Madonna santa ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Restannis del trono di spade. Restannis del trono di spade. Siamo a posto. Ce l'abbiamo fatta. La sfida è vinta. E adesso veramente possiamo giocarcelo magari questa partita. Vediamo come va avanti. Ma lo vediamo domani. A domani. La sfida è vinta. La sfida è vinta. A domani. Ciao. Ciao. La sfida è vinta. Basta. La smetto qua. La sfida è vinta. La sfida è vinta. Grazie a tutti.